In Padeia International Hospital, noi del Centro Mano Roma, siamo specializzati anche nelle patologie della mano del musicista. Il musicista presenta principalmente patologie legate al sovraccarico, quindi overuse, tendiniti e patologie legate alle distonie funzionali e distonie focali. È molto importante per una corretta riabilitazione valutare il paziente durante il gesto musicale per stabilire un programma mirato ed individuale. La terapia prevede sia una terapia antinfiammatoria con terapia fisica e sia una riabilitazione mirata a un recupero articolare o un recupero muscolare con degli esercizi specifici di forza. I tutori funzionali confezionati su misura dal terapista sono un grande supporto per il paziente. Infatti il paziente, in alcuni casi, con l'aiuto del tutore, può continuare a suonare anche durante il programma riabilitativo. Oltre alla riabilitazione della mano, seguiamo i pazienti anche dal punto di vista posturologico e dal punto di vista della prevenzione. Per la prevenzione, noi terapisti della mano insegniamo al paziente musicista degli esercizi che vanno dal rinforzo muscolare all'allungamento per prevenire eventuali patologie della mano. Grazie. Grazie.